Oggi nella splendida cornice dell'Aula Magna dell'Università di Pavia abbiamo inaugurato l'Anno della Cultura d'Impresa che quest'anno è stato assegnato a Pavia, un riconoscimento che ci rende molto orgogliosi nella capacità del saper fare e del saper interpretare sempre in chiave moderna alla manifattura. Pavia si è giudicata questo importante riconoscimento e questa grande responsabilità per tutto l'anno dove dovrà dimostrare la capacità di presentare dei progetti che sono sempre più innovativi, sostenibili per dimostrare ancora una volta quanto le nostre imprese siano capaci di cambiare e di interpretare nella maniera migliore il modo di fare imprese. È una giornata bellissima oggi, questo è un segno che il territorio sicuramente ha colto questa occasione come una vera sfida, una carta da giocarci veramente per il 2023 per rilanciare il territorio. A Solombarda oggi ha dato un segno forte il territorio, direi di leadership e di tentativo di caricarsi sulle spalle una situazione e portarla avanti, diciamo, verso nuovi traguardi. Grazie a tutti, la nostra cerimonia finisce qui, adesso ci toccherà lavorare per fare le cose. Grazie a tutti.